Novena alla Vergine della Rivelazione Primo giorno Non lasciate mai il Santo Rosario. Io sono con voi, sempre, per aiutarvi. Pregare sempre, senza stancarsi. Meditazione Come ogni buona madre, la Vergine della Rivelazione dà sempre ai Suoi figli le indicazioni per camminare nel pellegrinaggio terreno. Pregate il Santo Rosario. Ripetutamente Maria propone la stessa preghiera a tutti coloro che cercano il suo aiuto. Tuttavia, ci dona anche la consolazione che lei si trova sempre al nostro fianco nelle tribolazioni. Il pensiero della vicinanza di Maria Santissima ci fa sentire meno soli e aumenta il nostro coraggio nell'affrontare le difficoltà della vita sapendo che con la sua materna compagnia è sempre al nostro fianco. All'inizio di questi nove giorni in sua compagnia affidiamo tutto ciò che abbiamo nel cuore alla sua materna cura chiedendole aiuto e intercessione. Di fatti, sullo sfondo delle parole Ave Maria passano davanti agli occhi dell'anima i principali episodi della vita di Gesù Cristo. Essi si compongono nell'insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi e ci mettono in comunione viva con Gesù attraverso il cuore della sua madre. Nello stesso tempo, il nostro cuore può racchiudere in queste decine del rosario tutti i fatti che compongono la vita dell'individuo, della famiglia, della nazione, della Chiesa e dell'umanità. Vicende personali e vicende del prossimo e in modo particolare di coloro che ci sono più vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del rosario bate il ritmo della vita umana. Supplica alla Vergine della Rivelazione Vergine Santissima della Rivelazione che sei nella Trinità Divina Degna ti ti preghiamo di rivolgere a noi il tuo sguardo misericordioso e benigno. O Maria, tu che sei la nostra potente Avvocata presso Dio, che con questa terra di peccato ottieni grazie e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa che otteniamo dal tuo Figlio Gesù con la salvezza dell'anima, anche la perfetta salute del corpo e le grazie di cui abbiamo bisogno. Concedi alla Chiesa ed al capo di essa il Romano Pontefice la gioia di vedere la conversione dei suoi nemici, la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra, l'unità dei credenti in Cristo, la pace delle nazioni, affinché possiamo meglio amarti e servirti in questa vita e meritare di venire un giorno a goderti e ringraziarti eternamente in cielo. Amen. Se ti piace il nostro canale, iscriviti, comenta, metti mi piace o non mi piace, prega con noi e aiutaci a diffondere la preghiera. Grazie. Grazie. Grazie.